Musica Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca Un principio di annegamento per una bimba oggi in un agriturismo di Bucine ci ricostruisce l'accaduto nel servizio Greta Settimelli Il principio di annegamento per una bambina di tre anni nella retino l'incidente è avvenuto a Bucine in una struttura ricettiva dove la bambina si trovava in vacanza con i genitori Per cause in corso di accertamento la piccola è caduta in piscina, è stato un medico che si trovava lì in vacanza a praticare il massaggio cardiaco alla piccola Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza arrivata da Montalto e l'elisoccorso Pegaso La bambina è stata trasportata all'ospedale Meyer di Firenze in codice rosso Appena una settimana fa un episodio simile, un bimbo di 5 anni era stato ritrovato a esanime in una piscina sempre in una struttura ricettiva di Pieve a Maiano In quel caso erano stati i genitori a praticare il massaggio cardiaco guidati dagli operatori del 118 al telefono Fondamentale in questi casi la tempistica di intervento Perché comunque sia il 118 può essere veloce quanto si vuole ma in realtà i primi soccorritori sono le persone che sono accanto all'utente che sta male Quindi l'aiuto imminente da parte di chi è intorno è fondamentale per la sopravvivenza e per l'esito della missione E proprio a margine di questa notizia di cronaca arrivano alcuni suggerimenti utili da parte della misericordia di Arezzo Per la prevenzione proprio degli incidenti in acqua Vediamo Non è tanto l'acqua il pericolo o l'ambiente acquatico in generale il pericolo Anche se necessariamente viene considerato un ambiente ostile I pericoli in realtà sono nel comportamento, il famoso fattore umano Ed è proprio partendo da questo assunto che la misericordia di Arezzo ha deciso di divulgare le informazioni più corrette in tema di prevenzione Lo ha fatto con un decallogo di semplici suggerimenti su cosa fare e specialmente cosa evitare nel rapporto con tutte le acque di balniazione Gli incidenti in acqua infatti sono più di 1000 all'anno di cui 400 mortali solamente in Italia Con prevalenza tra le vittime e bambini, massima attenzione e dunque soprattutto nei loro riguardi Diciamo che è la prima regola, la sorveglianza del minore con l'acqua è una sorveglianza, una responsabilità in vigilandi Si dice, cioè deve essere continuamente a vista E continuamente significa evitare assolutamente distrazioni anche temporanee come può essere quello di guardare il cellulare E soprattutto non lasciare punti di acqua incustoditi anche intorno a casa Perché ogni specchio d'acqua incustodito naturalmente è un'attrazione formidabile per la curiosità dei bambini E purtroppo la tragedia è dietro l'angolo in questi casi Tra i consigli della misericordia c'è poi quello di valutare bene le proprie capacità natatorie In rapporto alle condizioni ambientali e non trovarsi mai soli in acqua Non entrare poi se non in perfette condizioni di salute Non forzare le proprie prestazioni Non arrampicarsi sulle scogliere Ed ancora nuotare solamente nelle aree dedicate ai bagnanti Attendere dopo i passi Ed infine prestare massima attenzione allo sbalzo termico tra fuori e dentro l'acqua Soprattutto d'estate capita di essere accaldati al sole, in fase digestiva eccetera In queste situazioni tuffarsi in acqua all'improvviso senza acclimatarsi progressivamente È pericoloso perché si può avere un malore particolare che si chiama sincope della idrocuzione Che è anche molto difficile da soccorrere La misericordia infine ricorda che in caso di necessità è meglio evitare di entrare in acqua Ma piuttosto chiedere aiuto inoltrando una buona chiamata di soccorso al 112 Che poi provvede immediatamente già in base alla descrizione del fatto che l'incidente sta avvenendo in acqua Attiva tutta una serie di procedure quindi non si perde un attimo in realtà nel descrivere quello che sta succedendo Per questo dico una buona chiamata di soccorso Naturalmente in questi incontri insegniamo anche questo Questo più che soccorrere in acqua Perché il soccorso in acqua è pertinenza di figure professionali qualificate Che sono gli assistenti di salvamento Statisticamente il rischio per chi soccorre in acqua è maggiore rispetto a chi viene soccorso Ancora cronaca, degrado e gravi carenze igienico-sanitarie È stato ordinato lo sgombero dell'ex Hotel River a San Giovanni Valdarno Per motivi di sanità e sicurezza pubblica Vediamo il servizio Allora sì, questa mattina io a seguito di un sopralluogo dell'asla insieme ai carabinieri della stazione di San Giovanni E la polizia municipale del comune di San Giovanni Valdarno avvenuta la scorsa settimana Ho emesso un'ordinanza contingibile e urgente per lo sgombero, per la chiusura dell'ex Hotel River Chiaramente volontaria e poi se questo non avverrà coattiva da parte appunto delle forze dell'ordine Ordinanza di sgombero per l'ex Hotel River che si trova nel Lungarno in via Fratelli Cervidi a San Giovanni Valdarno La firma è del sindaco Valentina Vadi La struttura prima hotel poi residence aveva continuato a presentare gravi carenze igienico-sanitarie L'obiettivo è appunto di porre sigilli alla struttura dell'ex Hotel River perché versa in una condizione di degrado ormai non più sostenibile Crea un disagio fortissimo all'interno della cittadinanza che vive nella prossimità dell'ex Hotel River E poi è un luogo dove è legato indirettamente anche a tutta questa vicenda di furti che si sono verificati nelle ultime settimane Nel 2019 il primo blitz dei NAS allora l'hotel venne declassato da tre stelle a una All'interno fu trovata sporcizia e condizioni al limite della vivibilità Già allora il sindaco fece un'ordinanza Negli ultimi tempi erano state numerose le segnalazioni dei cittadini in merito a situazioni di degrado Io auspico davvero che questo porrà fine anche a questo fenomeno di furti che stanno fortemente danneggiando la nostra comunità In modo particolare le attività commerciali e poi soprattutto poiché questo immobile ormai è in gestione all'istituto vendite giudiziarie Possa finalmente arrivare un privato a rilevare la struttura e quindi a porre fine a questa lunghissima vicenda Ormai come diceva lei affonda le radici in anni passati Io come sindaco ho cercato di fare quello che è nelle possibilità di un sindaco E quindi arrivare a questo momento, quindi emettere un'ordinanza contingibile e urgente Che mi consente di mettere alla fine i sigilli a quella struttura C'è stata una collaborazione con tutte le altre istituzioni, quindi come prima ricordato Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, la Prefettura, la Costura, l'ASL, il Comando Provinciale dei Carabinieri E' chiaro che dopo il soprallogo dell'ASL, quindi per motivazioni igienico-sanitarie Si chiude quella struttura che chiaramente crea dei problemi a livello di ordine pubblico Però io ho fatto quello che qualsiasi altro sindaco avrebbe fatto Trovare la strada per mettere i sigilli alla struttura Incendio questa mattina nelle campagne del comune di Civitella della Chiana Alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Dorna, vicino a Badialpino Le fiamme sono divampate al margine di una strada di campagna Per poi propagarsi in vigne e oliveti fino ad arrivare ad una zona boschiva In tutto sono andati in fumo 5 mila metri quadrati di vegetazione Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che in poche ore hanno domato le fiamme e poi sono passati alla fase di bonifica E adesso parliamo di sanità e occupiamoci di sepsi Ad Arezzo una bambina è stata salvata all'ospedale di San Donato La sepsi è un'infezione grave in cui batteri invadono il torrente ematico e il sangue Quindi danno sintomi sistemici gravi anche potenzialmente letali Più che prevenzione bisogna saper fare una diagnosi precoce È l'occhio clinico del pediatra di famiglia, del pediatra ospedaliero che come in questo caso è stato vincente La sepsi è un'infezione potenzialmente letale se non riconosciuta e trattata prontamente Da Arezzo fortunatamente arriva una storia al lieto fine Quella di una bimba di 10 mesi salvata all'ospedale San Donato La piccola era arrivata in pediatria con febbre e pianto A scoprire in breve tempo la causa ai medici del San Donato Che hanno messo in campo il lavoro di Tim e le migliori cure per salvarla Caso di una sepsi è un'infezione grave da staphylococco aureo Con una localizzazione osteoarticolare Trattato in maniera individuata in tempo Velocemente con una diagnosi clinica molto rapida Ma con il supporto di tanti Quindi si va dal laboratorio Poi il team accessi vascolari La unità operativa di anestesiologia pediatrica La radiologia E insieme abbiamo risolto il caso La bambina è a casa, sta bene E quindi siamo molto contenti La sepsi in generale è la principale causa di decesso per un'infezione E una delle emergenze più frequenti in ospedale E non solo È una patologia che riguarda non solo i bambini Ma tutto lo spettro dell'età fino all'adulto I campanelli di allarme sono campanelli Indizi clinici di uno stato di cambiamento dello stato clinico Uno stato di malessere Di sintomi che coinvolgono più apparati Non soltanto l'apparato circolatorio Ma anche quello respiratorio Per esempio un aumento della frequenza respiratoria Un aumento della frequenza cardiaca Uno stato di obnominamento del sensorio C'è un bambino Un adulto che non è più lui Dal punto di vista anche di come si rapporta con l'ambiente esterno E ovviamente la diagnosi prima si fa E meglio è Si interviene ovviamente prelevando esami culturali Che vanno fatti prima dell'inizio degli antibiotici E trattando nel più breve tempo possibile Non basta soltanto la terapia antibiotica Ma c'è anche un supporto Nelle sepsi gravi anche di liquidi Perché si va in shock settico In questo caso grazie a Dio non siamo arrivati allo shock settico Guida in stato di ebrezza Detenzione di armi e stupefacenti E truffe Sono queste alcune delle attività Che hanno visto impegnati i carabinieri Della compagnia di Bibbiena Durante il weekend appena trascorso 110 le vetture fermate Cominate sanzioni Per infrazione al codice stradale Per circa 3000 euro Inoltre nelle scorse ore I militari hanno denunciato e ritirato la patente A due cittadini trovati al volante In stato di ebrezza a Poppi e Bibbiena A Sochi un cittadino nordafricano È stato segnalato alla prefettura di Arezzo Per detenzione di Ashish Ed è sempre nella stessa zona Che i carabinieri hanno fermato Un camper con a bordo una donna e un uomo Trovati in possesso di un coltello serramanico 7 grammi di chetamina E una dose di eroina I due sono stati segnalati Infine un giovane di 22 anni È stato denunciato per frode informatica In quanto era riuscito a sottrarre Ad una donna di Castel San Nicolò Alcune centinaia di euro Dal proprio conto corrente Attraverso una piattaforma online Fittizia E torniamo ad Arezzo Dove ripartono i lavori In via Fiorentina Con disagi ovviamente Alla circolazione Vediamo il servizio Dopo settimane di attese e polemiche È scattata l'ora X in via Fiorentina Come annunciato a conclusione del Consiglio Comunale Aperto Proprio sul tema Sono infatti cominciati oggi ed andranno avanti Sino al prossimo 3 agosto I lavori sull'opera E sono state così introdotte Le prime limitazioni alla circolazione I lavori partono dai sottoservizi Che serviranno per il cantiere della Rotonda Per sei giorni saranno così chiuse alcune strade Per consentire i lavori Non saranno percorribili via Pitagora Viale Don Minzoni E in zona Rezzo Fiere Dalle 8.30 di oggi Sino a termine dei lavori È istituita la chiusura totale al transito Veicolare sia in ingresso che in uscita Dalla città In un tratto di via Fiorentina All'intersezione con viale Don Minzoni Viale Giovanni Amendola Che diviene così strada senza uscita Per i veicoli che percorrono via Fiorentina Da Salleo verso il centro città Modifiche poi anche in viale Giovanni Amendola Negli stessi giorni orari E temporaneamente è istituito il divieto Per i pedoni sul marciapiede di via Fiorentina Nel tratto che va dal civico 177 Sino all'attraversamento pedonale Presente sulla corsia di incalanamento Da via Fiorentina Viale Don Minzoni Sarà garantita comunque la circolazione Alternativa Lavori sulla linea lenta Aretina ad agosto E ripercussioni sui treni regionali Arriva una lettera aperta Dei pendolari E' indirizzata all'assessore regionale Trasporti Stefano Baccelli La lettera firma di Maurizio D'Are Portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima Il motivo sono i lavori sulla linea Aretina lenta ad agosto E le possibili ripercussioni Sui treni regionali Quale portavoce del comitato Scrive D'Are sono a chiederle una particolare attenzione Dal 5 al 19 agosto a Rignano Si entrerà nel culmine Dell'intervento di RFI Per il rifacimento del ponte ferroviario Con l'interruzione della linea E lo stop al passaggio dei treni La chiusura avrà inevitabili impatti Per la circolazione ferroviaria In quei giorni E non è chiaro come saranno I tempi di percorrenza In direzione Firenze Di bus, navette e treni In particolare Conclude D'Are Non si sa quale sarà L'attenzione da parte di RFI Per i treni regionali veloci Per la percorrenza obbligata Sulla direttissima E soprattutto Sulla puntualità Degli stessi treni Sempre a rischio inchini E adesso parliamo di politica Ellie Schlein È stata ospite a Pieve Santo Stefano Per la festa dell'unità Ascoltiamola L'autonomia differenziata È una riforma sbagliata Che vuole spaccare in due Il paese Che invece ha bisogno Di essere ricucito Le diseguaglianze in questi anni Tra crisi economica e finanziaria E pandemia Il ritorno delle guerre E la crisi energetica Sono aumentate L'autonomia differenziata Fatta senza mettere un euro Vuole aumentare quei divari E invece Quei divari vanno ridotti Perché quei divari Li hanno pagati soprattutto Le aree interne E il sud di questo paese Lo ha detto Ellie Schlein Segretaria del Partito Democratico Oggi a Pieve Santo Stefano Per la festa dell'unità In occasione delle campagne Delle state militante Dedicate alle aree interne E all'autonomia differenziata Quindi noi abbiamo avviato Questa raccolta firme Con tante altre forze Di opposizione Forze politiche Sociali Associative Sindacali E siamo molto contenti Che già in questa prima settimana Di banchetti E di raccolta firme Anche online Perché finalmente Abbiamo ottenuto Di poter avere anche La piattaforma Per firmare online Ci sono già Le file Insomma Ci sono già Moltissime persone Che vogliono dare Un segnale Dare una mano E poi naturalmente Convincere tantissime persone Ad andare a votare Per questo referendum Per bloccare Questo disegno Scellerato Che aumenta le diseguaglianze Che invece abbiamo bisogno Di ridurre La segretaria Dem Che ha voluto anche visitare L'archivio diaristico nazionale Il piccolo museo Del diario Di Pieve Santo Stefano Si è soffermata Anche sulle passate elezioni Amministrative E soprattutto Sul campo largo Le alleanze Non si fanno In stanze chiuse Tra gruppi dirigenti Si fanno se Come abbiamo fatto Sui territori Mettiamo in fila Le priorità Che interessano agli italiani E su quelle Ci impegniamo insieme Su quelle Mescoliamo La nostra gente Che ha voglia Di darsi da fare E che in queste amministrative Ha dimostrato già Di sapere convincere Le proprie comunità E di vincere le elezioni Quindi naturalmente Il nostro approccio Rimane testardamente unitario Perché Non perché ce lo chiede il medico Ma perché naturalmente Ce lo chiede la nostra gente Andiamo in Val di Chiana Una serata tra rievocazione E gastronomia Per i 470 anni Dalla battaglia di Scannagallo L'appuntamento dal titolo In taberna Quando Sumus È fissato Alle 19 di venerdì 2 agosto E sarà messo in scena A Pozzo della Chiana Direttamente nel luogo Dove nell'estate del 1554 Le truppe fiorentine Si imposero su quelle senesi Gettando le basi Per la costituzione Del Granducato di Toscana La serata Organizzata dall'Associazione Scannagallo Proporrà un'inedita Esperienza Dove rivivere Atmosfere E suggestioni Di una taverna All'interno di un accampamento Del XVI secolo Che verrà eccezionalmente Allestita Negli spazi adiacenti Al Tempio di Santo Stefano Che fu voluto Dal Granduca Cosimo De Medici Nel 1569 Proprio per celebrare La vittoria Della battaglia Di Scannagallo L'evento sarà Arricchito Dalle visite libere Al Tempio di Santo Stefano E dall'addestramento Dei fanti Nel mestiere Delle armi Oltre che Dalla possibilità Di rivivere i fatti Di Scannagallo Con i visori A 360 gradi Che trasporteranno Direttamente Sul campo di battaglia Con un'esperienza Immersiva Multisensoriale Tridimensionale La conclusione Sarà dedicata Alla gastronomia Con un aperitivo Con piatti E sapori Della taverna E rimaniamo In Valdichiana Perché le indiscrezioni Si rincorrevano Da settimane E alla fine Era tutto vero Il Giova Nazionale È salito Sul palcoscenico Della prima edizione Del Cauta Summer Fest Proprio Nella sua cortona Vediamo Non ha disatteso Le aspettative Del pubblico E della sua cortona Lorenzo Cherubini In arte Giovanotti È salito Sul palcoscenico Del Cauta Summer Fest Ed è stata Subito Una grandissima festa Le voci Si rincorrevano Da settimane Alla fine La sorpresa Di Lorenzo Alla giovane Associazione Cortonese Cauta Un appuntamento Reso possibile Grazie all'unione Del nuovo festival Cortonese Con il progetto Sbam From Giova Beach Party È stato proprio Lorenzo Cherubini A creare il collante Con il festival Cortonese Un suo personale Regalo Alla giovanissima Ma intraprendente Associazione Formata dai ragazzi Dell'età di sua figlia Teresa La musica Ha cominciato a girare Dalle 18 Fino a tardanotte Per l'occasione La piazza cortonese Si è trasformata 400 metri quadrati Di spiaggia Giochi d'acqua Gonfiabili colorati E palcoscenico Delle grandi occasioni La serata È stato Uno spensierato Diversivo Anche per lui Fermo da molti mesi A causa dell'incidente In bici Per tornare a fare festa Su un palcoscenico E abbracciare il pubblico Vi auguro le cose più belle Del mondo A voi Alle vostre famiglie Ai vostri amici A chi vi vuole bene A quelli a quali voi Volete bene Forza Un abbraccio a tutti Coraggio Ciao Grazie Il jazz torna protagonista Di Arezzo Smart Festival Con il concerto American and Brazilian Songbook Presentato dal quintetto Formato da Elena Goti Alberto Mommi Gianni Cinelli Maurizio Bozzi E Andrea Croci L'appuntamento è fissato Per giovedì Primo agosto Presso l'Arena Eden Di Arezzo Con inizio alle 21.15 L'evento è realizzato In collaborazione Con l'associazione Jets on the corner E adesso passiamo Alla pagina sportiva La Lega Pro Ha comunicato Gli orari e giorni In cui si disputeranno Le prime sette partite Di campionato Dell'Arezzo L'esordio sarà di domenica Il 25 settembre In casa Contro il Campobasso Il fischio d'inizio È fissato Per le 20.45 Seguono due trasferte Consecutive A Pesaro Contro la Vis Si giocherà Lunedì Il 2 settembre Alle 20.45 La terza giornata Di campionato A Pineto Invece sarà Sabato 7 settembre Sempre allo stesso orario Poi l'Arezzo Tornerà a giocare In casa Contro il Lignago Salus La gara Si giocherà In anticipo Venerdì 13 settembre Alle 20.45 Mentre Otto giorni dopo Gli Amaranto Saranno a Ponte d'Era Sabato 21 settembre Alle 20.45 La sesta giornata Si giocherà Tre giorni dopo Martedì 24 settembre Alle 20.45 Quando l'Arezzo Sarà in casa Contro il Gubbio L'ultimo orario Ufficializzato È quello Della settima giornata Tra Arezzo E Ternana Che si terrà Domenica 29 settembre Alle ore 14 E adesso parliamo di ciclismo Domani allevane di scena La corsa ciclistica Per Elite E Under 23 Con una caratteristica particolare Ovvero Partenza di giorno Quando c'è ancora La luce del sole E arrivo di notte In palio il 14esimo Trofeo Polverini Secondo Memorial Ezio Mannucci A ricordo di un personaggio Conosciutissimo Che ha dato tanto Al ciclismo Mannucci infatti È stato Per una vita Oltre 50 anni Il Deus Ex Machina Della Fracor Levane Squadra Che ha sfornato Tantissimi corridori È stato sia un tecnico Che un dirigente E organizzatore Sono 125 Gli iscritti Il via ufficioso Alle 19.15 Quello ufficiale Alle 19.30 Al culmine Dello strappo Delle querce Davanti allo Stabilimento Polverini E adesso parliamo Di atletica Perché Nicolás Gavagni Dell'Alga Atletica Arezzo Chiude Al settimo posto I campionati italiani Di salto e lungo L'atleta Nato nel 2006 Ha gareggiato A Rieti Nelle finali Di nazionale Juniores Dove si è confrontato Con i migliori 25 coetanei Di tutta la penisola E dove è riuscito A confermarsi Tra le promesse Dell'atletica Giovanile Tricolore Dopo l'argento Vinto E campionati italiani Allievi Nel 2023 I campionati italiani Juniores Hanno impegnato Anche Riccardo Cincinelli Del 2005 Già campione toscano Che ha gareggiato Nei 110 ostacoli Dove ha chiuso La prima batteria Al secondo posto E al decimo posto Complessivo Il gruppo Aretino Era arricchito Dalla presenza Di Federico Rubecchini Del 2004 Che si è messo Alla prova Nel salto in alto Tra le promesse Che ha archiviato I campionati italiani Al sedicesimo posto E vi ricordiamo Che questa sera Alle ore 21 Torna l'appuntamento Con la nostra Trasmissione Fattore di ospite Della puntata Di questa sera La giornalista Aretina Simona Buracci Che ci ha parlato Della sua rinascita Dopo una lunga E importante malattia E con questo è davvero tutto Per il nostro telegiornale Io vi ringrazio Come sempre Per l'attenzione E vi auguro Una piacevole serata Arrivederci